Per un nuovo appuntamento della sesta stagione concertistica dell'Associazione Risonanze, preseduta da Antonietta Gramegna, al Circo L'Unione di Lucera è stato protagonista il tango. Con il concerto Project Tango e la musica di Giovanni Battista Iacovone al sax, Pasquale Gadaleta al contrabbasso, Luca Lorusso alle percussioni e Alessandro Amato al pianoforte, Project Tango ha offerto all'attento pubblico di Lucera le peculiarità stilistiche del tango, insieme a repertori più evoluti fino alle opere dedotte dal mondo delle colonne sonore. Light Motive è stata l'eredità lasciata da Astor Piazzolla. Sonorità e melodie dal grande fascino hanno conquistato il numeroso pubblico presente. All'interno dell'appuntamento musicale inoltre, come dall'inizio della stagione, con la collaborazione del Corso Moda dell'Istituto Professionale Industriale Artigianato di Lucera, è stato presentato l'abito realizzato dalle allieve, ispirato al tema della serata. Per l'occasione è stata ospite dell'evento anche la 26enne lucerina Alessandra Carella, ex allieva dell'Istituto Moda che nonostante la sua giovane età, vanta un ricco curriculum nel mondo dell'alta sartoria per teatri, cinema e fiction. Oggi collabora con la Walt Disney a Roma, mentre fino a due settimane fa ha fatto parte del team dei sarti per la realizzazione dei costumi per la nuova fiction Il nome della Rosa, che andrà in onda sulla Rai prossimamente. Musica, moda e racconti dunque per una serata che ha proiettato nel suggestivo mondo del tango.